buonasera benvenuti a quest'ultimo incontro della giornata abbiamo fatto oggi una già un percorso non già non oggi ma già da ieri dall'altro ieri nel tema del festival nel rapporto tra la scrittura e le altre arti l'abbiamo visto declinato in vari modi abbiamo c'è appena stato un incontro appunto con freddo il pajac che disegna scrive e regista veramente molti si muove su varie discipline e a questo incontro abbiamo il piacere non che l'onore di avere con noi jean e schnoz che è uno di quegli scrittori che uno vorrebbe fare un festival apposta per invitarlo e avere una scusa ogni anno per invitarlo e rinvitarlo chiunque di voi abbia letto anche semplicemente un suo libro sa benissimo di che cosa sto parlando però non è solo per questo che è qui è qui anche perché rappresenta un altro tassello di questa mappa che stiamo cerchendo di tracciare e jean e schnoz è un narratore puro è uno scrittore e fa quello ma in questo caso la commissione tra le arti passa sotto traccia più sottile ed è una questione di influenza e di passione per altri generi per altri modi di narrare come può essere il cinema per altri tipi di arte come può essere la musica sia classica sia musica jazz e il modo in cui queste arti possono influenzare anche una persona che scrive dei romanzi a parole con lui ho anche di nuovo l'onore e il piacere di avere giorgio pinotti che è suo traduttore ed è anche stato per 30 anni l'editor in chief della casa editrice ad elfi per la quale io ho lavorato e quindi sono molto contento di avere giorgio qui che era un po che non ci vedevamo lascio a lui la parola e vi auguro un buon incontro e grazie benvenuti benvenuti a tutti grazie di essere qui volevo volevo subito volevo subito ringraziare jean e schnoz e averlo qui con noi è un è davvero lo dico senza alcuna forma di di retorica è un vero privilegio perché è sempre meno frequente che accetti inviti soprattutto poi così lontani lontani da parigi e volevo anche ringraziare matteo campagnoli che ha voluto fortemente questo incontro e che con la sua tenacia affabile e sorridente è riuscito è riuscito a spuntarla e insieme a jean e schnoz io vorrei attraversare se possibile la sua la sua produzione rapidamente ma anche dar ragione in parte di quello che diceva che diceva poco fa matteo campagnoli c'è da ragione appunto del dell'inserimento di questo incontro nel contesto di un festival dedicato all'ecfrasi cioè quindi all'incontro tra la scrittura e altre arti e poi volevo anche appunto in qualche modo visto che io non sono veramente un non sono veramente un traduttore di professione sono un editor che ogni tanto ha scelto di tradurre soltanto le cose che amava di più ho tradotto cinque libri di e schnoz semplicemente perché per me era una necessità e perché non potevo farne a meno e quindi in fondo questo incontro mi serve anche a dar ragione di questa di questa di questa passione allora nel 2004 su una rivista che si chiama elucidazione che avrebbe di lì a due anni pubblicato ravelle ha fatto uscire un breve intervento una sorta di incunabolo del del romanzo che si intitola maurice ravelle surface della miniatura e in questo in questa brevissima scheletrica vita di morris ravelle che prelude poi al romanzo c'è una sua frase che mi ha molto colpito sta parlando di ravelle naturalmente dice scusate se spero di non complicare troppo il compito ogni tanto citerò in francese o in italiano a seconda e dice di ravelle fu indifferente al successo insensibile alla sconfitta e non credete nemmeno un attimo all'ispirazione e io spero di pensare a meno di pensare che ci fosse soprattutto per l'ultima parte una piccola parte di autoritratto en creux in questa in questa in questa frase e quindi volevo subito chiedergli è vero qual è il tuo rapporto con l'ispirazione o come ravelle appunto pensi che non esista assolutamente che l'origine di un romanzo di un'opera vada cercata altrove l'ispirazione io non so molto bene che cosa sia davvero l'ispirazione quindi siccome non so bene che cosa sia non ci credo troppo mi fa pensare subito a una cosa che è nel mio libro su Maurice Ravel e c'è una conversazione che aveva avuto a proposito di uno dei due concerti da lui composti e più precisamente sul secondo movimento del concerto in sol che è un movimento molto lento è un bellissimo adagio e l'interlocutrice una grande pianista il cui nome adesso mi sfugge dice una frase che scorre in modo naturale e questo aveva suscitato le ire di Ravel non si può dire che scorre perché mi sono ammazzato io ci ho passato ore su ogni nota o insieme di note e effettivamente quando si ascolta questo brano così naturale così dolce pieno di inventiva evidenze quello che è interessante è come se precisamente ci fosse qualcosa di un'ispirazione immediata e non quindi di un lavoro accanito feroce e ingrato e allora è questo un passaggio sul quale in tutta umilità perché davvero non ho il talento di Maurice Ravel ho potuto incendere la produzione di qualche cosa che sembra andare da sé che a me sembra non significa che dia questa impressione a chi legge ma che è invece il prodotto di un lavoro assai lungo, caotico, difficile e dunque in breve per riassumere io credo non so in che cosa credo ma insomma diciamo per me l'ispirazione è un'apparenza che nasconde qualche cosa che piuttosto rientra appartiene all'ordine della traspirazione o quantomeno dell'accanimento e dell'insoddisfazione permanente dunque la necessità insomma parliamo di lavoro il lavoro e l'ispirazione sono la stessa cosa vorrei dire l'ispirazione è il termine nobile per lavoro nel caso di Ravel all'origine di alcune sue composizioni del Bolero per esempio nel romanzo che è pubblicato nel 2006 si parla di un forte gudula meccanica è una cosa che riconosci anche nel tuo cantiere nella tua officina nel tuo modo di lavorare perché in effetti di fronte ad alcuni romanzi si ha veramente l'impressione di essere di fronte a degli ordigni a dei congegni sorprendenti a delle costruzioni dove l'artigiano l'architetto e l'ingegnere hanno lavorato fianco a fianco con il letterato e con il cinephile ha delle fabbriche orchestrali dove risalta dove spicca la passione per la musica e anche per le strategie retoriche, fonico-ritmiche, sintattiche, lessicali e quindi ho sempre pensato a molti dei tuoi libri come a degli ordigni come a dei congegni e non ho potuto fare a meno di collegare questo gudula meccanica di Ravel al tuo lavoro ma forse è una sovrapposizione fuori luogo prima di rispondere visto che hai citato tra le opere di Ravel e il Bolero lui stesso diceva, il compositore stesso diceva che l'ispirazione, l'origine del Bolero è stata osservazione di un'officina che si trovava a una fabbrica che non era lontano da casa sua o di suo fratello, adesso non mi ricordo più bene per quanto riguarda la meccanica qualche cosa dunque dell'ordine è difficile a dirsi, non so tanto bene come esprimere io immagino o cerco di immaginare la costruzione di romanzo come una sorta di meccanica ma una meccanica forse un po' non necessariamente efficiente o efficace un po' passa come certe sculture di Tangheli per esempio che sono delle macchine e stiamo parlando di sculture oppure le macchine descritte da Raymond Roussel non macchine molto razionali e tuttavia non riesco a non tentare di immaginare un romanzo come, sì, una sorta di motore dove ogni pezzo, ogni componente ha un suo impiego una serie di ingranaggi, sì con dei sistemi di rimando da una componente a un'altra non so molto bene quale sia il carburante di tutto questo ma sì non lo so, non so tanto bene che cosa dire un altro aspetto che io amo moltissimo allora vorrei sempre partire da un articolo meno noto di Jean Eschnos nel 1994 Jean Eschnos ha scritto la prefazione ad una raccolta di articoli di Pierre Marcel che si intitola Articlo de Paris alla fine di questa breve prefazione c'è una frase meravigliosa scusate la retorica so che Eschnos non la approverà ma pazienza una frase meravigliosa che io non posso fare a meno di ridirmi ogni volta che sono che sono a Parigi ma che vi cito per delle ragioni precise non soltanto per l'emozione che è suscita in me che sarebbe insignificante allora Eschnos dice ognuno sa bene che Parigi è solo una finzione che sono scenografie motore di una finzione è il servizio di questa menzogna in bianco e nero e che tutti i passanti sono come delle comparse piene di talento e la loro presenza praticamente buca lo schermo anche nei giorni di amarezza attraversate volentieri questa città contenti, eroi della vostra avventura personaggio principale che va nelle Sunlights allora perché l'ho citata? non soltanto perché mi piace moltissimo ma perché tocca un aspetto dei romanzi di Eschnos che io trovo molto interessante cioè il confine, la frontiera sottile e labile tra la realtà e la finzione molto spesso nei libri di Jean Eschnos laddove abbiamo degli aspetti che sembrano iperfinzionali in realtà sono perfettamente realistici e derivati da una documentazione perché molto spesso la realtà è più finzionale della finzione o come ama dire Eschnos a volte è la realtà stessa che on fait trop e questo è il primo aspetto il secondo aspetto è perché il Parigi è un moteur de fiction allora gli vorrei fare queste due domande il rapporto nei tuoi libri come si costruisce nei tuoi libri il rapporto tra a volte labile, sottile tra la realtà e la finzione cioè in sostanza tra la documentazione e il lavoro dello scrittore e poi naturalmente il peso che ha lo dici tu stesso il peso che hanno i luoghi e i non luoghi come carburante della finzione perché dici Parigi è moteur de fiction dunque ne deduco che i luoghi possono scatenare, avviare la finzione romanzesca sì, insomma la città di Parigi compare molto in questo libro ma questo perché in primo luogo ci abito e non mi è mai sembrata soltanto una scenografia anche se sono molto attaccato alla sua architettura eccetera a me è sembrata piuttosto come sempre come una sorta di officina della fiction della prosa penso al passo che tu hai appena citato c'è una cosa completamente cretina la storia della bugia in bianco e nero non so perché ho scritto questa stronzata perché suona molto bene sì, suona abbastanza bene ma non significa niente decorativa soprattutto decorativa però peraltro il resto lo riconosco un po' da una parte Parigi come sorta di officina virtuale della finzione letteraria c'è un romanzo di Balzac che si chiama Le comparse inconsapevoli mi è sempre interessato proprio questa idea della comparsa che non sa di esserlo anche questo l'ho trovato un motore molto interessante che mi avevi chiesto? beh ti avevo chiesto sulla geografia come personaggio e motore della tua narrativa ma anche la linea di confine tra finzione e realtà allora la geografia è molto legata al fatto che per motivi probabilmente nevrotici bisogna sempre io non sopporto l'idea di personaggi immobili tutto deve essere sempre in movimento per me e che ci siano spostamenti nello spazio ed è per questo motivo che in molti libri ho avuto voglia di usare luoghi non dico esotici perché non mi piace troppo questa parola dei luoghi lontani dove spesso non sono mai stato come scenografia ideale però è anche successo che per certi luoghi o scenografie io sia andato a fare come dire sopralluoghi sul posto come Flaubert sì 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 per esempio sì come paragone mi schiaccia un pochettino e questi sopralluoghi possono avere effetti inattesi ma io sto dicendo come Flaubert perché il sopralluogo fa subito romanziere 800 mentre ti considerano molto postmoderno io non so molto che cosa significhi ha un senso in architettura però se vuoi sì l'idea di usare dei registri del tutto diversi l'uno dall'altro e combinarli fra loro sì questo mi piace molto però adesso stavo ripensando al sopralluogo perché per una volta ho un aneddoto da raccontare e cioè che c'è un libro io avevo previsto che avevo ideato un libro ambientato in India quantomeno un grosso passo di questo libro ambientato in India e quindi sono andato lì per tra virgolette per documentarmi soprattutto per farmi una bella vacanza all'estero e però la mia idea era di una strada che mi raffiguravo piuttosto bene prima di quel viaggio avevo una rappresentazione una raffigurazione dell'architettura una cosa che avevo costruito io completamente senza nessun riferimento senza immagine una cosa un po' irreale che mi raffiguravo e volevo verificare andare a controllare sul posto se una strada in India poteva rassomigliare o non rassomigliare alla mia alla mia immagine personale e quindi arrivo in India ero alloggiato in una specie di residence non male primo mattino esco da questo residence sono su una stradina strada secondaria che era molto rassicurante e al tempo stesso molto frustrante perché era esattamente come me l'ero raffigurata avrei anche potuto non andare fin lì io mi immaginavo soltanto una strada in discesa o in salita mentre invece era in piano ma insomma ha cambiato tutt'al più qualche parola del mio testo al tempo stesso era molto rassicurante e molto deludente dopo ho anche potuto come dire notare altre cose quindi si potrebbe scrivere un romanzo con Google Earth ah ma sempre più penso che si potrebbe sempre più farlo perché per quest'ultimo mio libro mi sono servito molto di più di immagini che si possono trovare adesso abbiamo a disposizione è una cosa che doveva succedere dov'è che si svolge? a Sulawesi ah sì non me lo ricordavo più sì sì Sulawesi esatto molto semplicemente è una banalità stavamo dicendo che Parigi era una specie di fabbrica virtuale di racconti di storie di avventure può essere qui potrebbe essere semplicemente bisogna che ci siano dei pretesti occorre che terzo punto che mi premeva perché è un'altra cosa che io amo amo moltissimo mi servirò ancora di una volta di una citazione però questa volta non di Eschnose ma di uno scrittore che Eschnose ha molto amato e lo ha dichiarato in molte occasioni ma che a sua volta ha molto amato Eschnose che è Manchette dopo la pubblicazione del secondo romanzo di Eschnose Ceroquet Manchette ha scritto una cosa che credo figuri anche nell'edizione tascabile ormai di Ceroquet una lettera bellissima nella quale definisce Ceroquet un metapolar referentiel e dice anche nell'occasione e parla di una escritura ultrageusement preziosa e che ride del même e della misera di sa propria preziosità e aggiunge tout ce bordel devait traître au bout du compte une autodestruzion et un ratage un sommet de l'effondrement or non ça tient allora bellissima definizione ma soprattutto quella di metapolar nel senso che una parte considerevole della produzione di Eschnose a partire dal Meridiano Greenwich poi poi Ceroquet e poi l'Equipe Malesa e avanti è un gioco con sottogeneri letterari sottogeneri romanzeschi come il Polar il Noir il romanzo d'avventure la Spy Story basti pensare ad esempio a due tra quelli che io amo di più che sono Lac e Le Grandes Blondes e quindi quello che volevo chiedere quello che volevo chiedere a Eschnose è questo questo gioco con i sottogeneri con la Spy Story il Polar il Noir eccetera che arriva poi fino a un voglia speciale e in fondo anche all'ultimo del 2020 la Vido Gérard Fulmar da dove da dove nasce nasce da un desiderio di romanzo che negli anni settanta quando pubblichi il primo romanzo forse in Francia si era un pochino un pochino perduto nasce dal desiderio di recuperare dei generi che hai che hai amato e ancora com'è riuscito secondo te un editore mitico come avrebbe detto Arbasino come Gérard Lendon a collocare questi primi romanzi dentro l'universo dell'edizione de Minuit quale rapporto deve avere visto tra questi primi romanzi Le Meridien de Greenwich Ceroquet e la grande produzione che lo caratterizzava Beckett il nuovo romano c'era veramente è stato lui a vederla o veramente c'era qualcosa del nuovo romano dentro questi primi romanzi cioè visto che tu fai cinque domande insieme io cerco di sì ritorniamo alla prima quello che posso dire è dire che come dicevi tu negli anni settanta in Francia quello che era il romanzo era visto molto male era un un po' denegato perché erano molto teorici si leggeva filosofia psicologia linguistica eccetera e mi sembra che il romanzo fosse una cosa un po' debole da una parte avevamo La Sagan e dall'altra Mogienot tutti e due notevolissimi autori e al posto di questo c'era una qualche cosa che era che dava piuttosto l'impressione di una certa di debolezza di mollezza laddove a me sembrava che si potesse ancora fare qualcosa sul versante romanzo per me si trattava di utilizzare di impiegare delle forme considerate minori popolari come il poliziesco perché ero anche un gran lettore di gialli a quel tempo e il giallo il romanzo di spionaggio di avventure cose del genere e mi sembrava concepibile avanzare in questi generi diversi progredire insomma e del resto per quanto riguarda il giallo per due motivi perché mi sembrava una cosa che mi sembrava poter combinare l'azione un racconto di azione ma anche la possibilità di avere un'azione all'interno del modo di raccontarla quindi una doppia una duplice azione se vogliamo si racconta un'azione e si agisce letteralmente con frasi parole eccetera e quindi lavorare sul versante delle letterature minori e quindi c'è stato questo poi c'è stato anche il fatto che io credo di avere letto abbastanza come tutti però non ho mai avuto la sensazione cioè nutro una grandissima ammirazione per scrittori completamente diversi fra loro e tutte le opere a cui potevo avere accesso erano come delle sorte di finestre che si schiudevano su forme molto diverse di colori molto diversi che davano luci diverse ma che non potevano essere considerate o che io non riuscivo a percepire mi sarebbe piaciuto ma non riuscivo a percepire come degli influssi perché in fondo non mi aiutavano per niente a scrivere e dunque credo che l'unico flusso reale concreto pratico è stato è venuto da uno scrittore francese di gialli Jean-Patrick Monchette e quindi questa è stata veramente una porta che si è aperta e so benissimo di averlo imitato non so se dire imitato qualche volta sì credo di averlo imitato ma nei cinque o sei primi libri forse anche qualcuno in più così come si mette qualche cosa su un quadro cercavo sempre di metterci dentro una frase di Monchette come una sorta di di saluto c'è stata una volta anzi in cui volevo mettere tre o quattro frasi su ma a quel punto diventava imbarazzante allora gli ho telefonato per chiedergli l'autorizzazione che mi ha concesso peraltro ma il ruolo che ha svolto Monchette è stato per me molto importante sul piano letterario del piacere della lettura ma là c'erano decine centinaia di libri che erano stati che mi avevano dato questo estremo piacere ma al tempo stesso non era come come un'autorizzazione in un certo senso era piuttosto una sorta di incitamento o permesso di scrivere certo al tempo al tempo stesso però non posso fare non posso fare meno di pensare che di fronte ad un libro come Meridiano Greenwich e poi e poi Cerocché un editore come Jérôme Lennon che veniva dagli anni della clandestinità che aveva scoperto Beckett che era considerato inevitabilmente un editore d'avanguardia non ha avuto nessuna esitazione nel pubblicare questi romanzi quindi mi chiedevo quale tipo di continuità avesse visto tra la sua produzione e questi romanzi cioè ha visto qualche cosa che c'era veramente ad esempio un rapporto con il nuovo romano o che ha solo immaginato io penso che l'abbia immaginata lui penso inoltre che ci sono diverse cose cominciamo con una devo dire che essere stato rifiutato prima da tutti gli editori è stato il gran colpo di fortuna della mia vita perché poi ritrovarmi all'edizione Dominui è un segno cioè l'immagine il logo in copertina edizione Dominui peraltro pubblica pochi libri e quindi anche se il mio primo libro è stato sul piano commerciale un disastro comunque è un gran marchio è un gran buon marchio ci sono delle automobili che sono di buona marca credo anche però che per lui per Landon questo libro quel libro non so perché con esattezza arrivava in un momento e non sono queste non sono storie mie sono storie dell'edizione Minuit è arrivato in un momento in cui questa macchina un po' bizzarra che in Francia abbiamo chiamato Nouveau Romand stava per esaurirsi gli autori cominciavano a invecchiare cominciavano ad avere gli anni che ho io adesso e i pochi che pubblicavano credo anzi so che all'epoca si pensava addirittura di chiudere la casa editrice per fare una casa di produzione cinematografica e invece si dà il caso che il mio primo libro gli ha dato l'idea a Landon che forse c'era una possibilità di respirare non so se poi gli ho ridato fiato però nelle anni seguenti parecchi scrittori sono arrivati in questa casa editrice e lavoravano come spero di averlo fatto anch'io in un modo un po' singolare cioè l'immagine la produzione dell'edizione de Minuit ha conosciuto una sorta di rinascimento del quale peraltro non sono certo l'unico colpevole c'è stato un nuovo movimento una ripresa del movimento detto questo il primo libro ed è il nesso che tu hai fatto con il mio rapporto con Manchette il Meridiano di Greenwich l'avevo progettato all'inizio come un libro da poter dare a una collana popolare di gialli per esempio la Serine Noire c'erano delle serie specializzate e nel corso della scrittura sono partito però in una direzione che usciva un po' dal canone del giallo dal modello del noir e se l'avessero se l'avessi portato ad un editore di gialli mi avrebbero sbattuto fuori senza complimenti e cosicché mi sono ritrovato anziché ritrovarmi in una collana popolare che era il mio obiettivo abbastanza umile mi sono ritrovato in una casa editrice molto snick molto snob molto elitaria che non è andata male tutto sommato è innegabile che questi primi romanzi e tutti i successivi anche se appunto giocano con sottogenere romanzeschi popolari in realtà possono contare su una tensione una tensione stilistica su un'attenzione diciamo ai fatti dello stile straordinaria io non so se voi avete avete letto questi primi romanzi che sono anche stati pubblicati remotamente in Italia ma mai più ma mai più ripresi beh e lo stile di Eshnosa è stupefacente romanzo polar noir romanzo d'avventure sì ma con un gioco di similitudini di metafore di metonimie di catene foniche con un gioco sul lessico sulla sintassi assolutamente assolutamente straordinario e e quindi mi chiedo questo questo gioco questo lavoro questo lavoro accanito sullo stile era un modo per per compensare il lavoro il gioco con generi popolari era una una necessità era una era una strategia o era qualcosa di assolutamente necessario per per te non c'è mai stato per quanto mi ricordo non c'è mai stata strategia particolare in quello che ho fatto no allora per cominciare all'inizio io non avevo proprio niente da dire non avevo assolutamente niente non è che uno ha voglia di scrivere quindi dia qualcosa da dire no io non avevo nulla da dire e quindi mi è successo molto tardi questo impegno nel romanzo bisogna rendersi conto che anche se uno non ha niente da dire ci sono però delle cose da fare e e quindi non posso darti una risposta su 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 le metafore le figure stilistiche eccetera perché sono delle cose che che vengono naturalmente nel lavoro della scrittura bisogna che una frase non sia troppo banale bisogna che suoni in armonia o in dissonanza rispetto a quella precedente o la seguente e bisogna che tutto questo sia ritmato che ci sia una respirazione che ci sia una si sposa e quindi all'inizio è stata un'ottima cosa di avere questa sorta di come dire quaderno di appunti su i sottogeneri romanzo d'avventura adesso non mi ricordo sì l'equipe malese per esempio che ci fossero delle avventure in mare che si che passa da un capitolato minimale tempesta in mare e ammutinamento che non è male nemmeno lui e quindi non erano delle limitazioni anzi erano quasi delle figure imposte e quindi mi sono detto se faccio letteratura di mare devo metterci dentro delle cose così e bisogna però che le tratti a un mio modo ma il mio modo non lo so definire perché non lo conosco perché succede tutto quanto nell'azione nel gesto stesso della scrittura e quindi ci sono stati ci sono state delle cose che appartengono diciamo all'ordine dell'immaginazione e poi altre cose che una rapina in banca beh ti viene voglia di trattarla no? come fai? beh insomma te la cavi in qualche maniera però non sono delle storie di scene imposte però una rapina in banca bisogna 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 goderci da una rapina in banca e approfittarle per poter scriverla descriverla nel modo più sostenuto e più efficace possibile e non so se ho risposto veramente dal tuo punto di vista in realtà questo è più quella che io chiamavo tensione stilistica perché lo è effettivamente è più dal tuo punto di vista di scrittore è più un'esigenza di azione di movimento all'interno della frase insomma ma c'è un altro aspetto sul quale sempre in questo gioco che mi ha sempre molto molto colpito è a che vedere con il gioco sui sottogeneri romanzeschi e però anche con la geografia perché leggendo questi romanzi in particolare uno su tutti che è Lac dove ci sono allora immaginate che appunto Lac è una storia di spionaggio ovviamente alla maniera di Eschnose e che gran parte dove c'è una spia Fran Chopin che è un entomologo e immaginate che gran parte dell'azione si svolge in una zona che sta se non ricordo male tra Orly e il grande mercato di Rangis quindi siamo in una zona di una zona di periferia di vuoti e questo libro ha per esempio delle descrizioni della di queste periferie tra le più belle che io abbia che io abbia mai mai letto allora è impossibile non pensare anche se appunto forse Eschnose lo negherà che il che il gioco sui generi che il noir sia anche un modo per e quindi la geografia sia anche un modo per disegnare una specie di di carta politica anche del di carta politica del mondo perché queste visioni della periferia non sono molto indulgenti mi sbaglio oppure il noir è un genere privilegiato anche per parlare chiedo scusa Eschnose per l'intensità di questa espressione per le iniquità del mondo Devo assolutamente spiegare un po' come è andata perché se no come posso dire doveva essere un romanzo di spionaggio ovviamente io non avevo la minima idea perché non ho molta immaginazione non avevo la minima idea di un soggetto particolarmente originale una specie di trama e là guarda ti avviso che non risponderò alla tua domanda già te lo dico no vabbè non figurati e quindi visto che avevo quest'idea di fare una cosa di spionaggio che all'epoca era un genere ancora più minore piuttosto disprezzato anche se ci sono anche autori molto importanti nel genere insomma in quel momento mi sono messo a leggere molto sulla CIA il KGB il Mossad i servizi francesi e tutto era di un'estrema banalità fino al giorno in cui mi imbatto in una cosa che era un'idea di un grande leader americano credo il generale Wolters che ha avvetto l'idea di mettere dei microfoni delle ciniche su degli insetti e farli volare via idea grottesca peraltro ma che è stata realizzata e qui mi sono detto ah eccola qua eccola qua l'idea strana dunque la professione del personaggio entomologo mi consensierà di giocare su questo e quindi a questo punto ho smesso di lettere di spionaggio ho cominciato a lettere di mosche parecchio anche perché bisognava comunque capirci qualche cosa e c'è stato questo e poi arriva un momento chissà se posso raccontare questa cosa ma si la dico dai la dico dai se no che cosa dico dunque c'è un dipartimento della banlieue parigina che propone di darmi dei fondi di cui avevo molto bisogno al momento per scrivere un libro e questo dipartimento è Valde Marne che si trova al sud-est Parigi sud-est e più o meno eravamo d'accordo anche se non era un obbligo che avrei citato il dipartimento a un certo punto del libro e lì succede una cosa formidabile perché il suggerimento di parlare di citare il dipartimento io non l'ho preso alla leggera ci ho passato dei mesi a esplorare il dipartimento del Valde Marne e scoprire dei luoghi in modo diseguale seducente il cimiterio di Thiers non è certo un posto allegro oppure il mercato di Angis cioè dei luoghi che a forza di frequentarli svelavano una sorta di potenziale di scenografia romanzesca molto forte e dunque la combinazione di queste scoperte la storia delle mosche degli insetti e questo spazio da esplorare dove ho trascorso molto tempo in automobile in metro tutto questo è stata una forma di documentarsi fisicamente esplorare il terreno e è questo che ha costruito il libro se vogliamo ma quello che sto raccontando sono procedure non sono cose molto interessanti sotto il profilo letterario che appunto l'Axe secondo me è il romanzo dove questi i centri commerciali le superstrade la zona è più presente è di una grande bellezza e se avessi probabilmente posto questa domanda a Danier no probabilmente ci avrebbe risposto in maniera molto commovente non importa le stombette c'è ecco tutti questi e volevo venire a quello che Matteo prima accennava è innegabile che tutti questi questi romanzi almeno sino al 1996 sino alle Grandes Blondes poi forse magari mi sbaglio ma mi sembra che la presenza un pochino si affievolisca c'è un'enorme presenza un'enorme presenza del cinema una presenza che permea questi romanzi dal punto di vista della tecnica della terminologia ma anche dell'Ecphrasis in LAC per esempio ci sono due capitoli che sono attraversati sostanzialmente da una descrizione di un film che si chiama Sam Cain Running con Shirley MacLaine Fran Sinatra Dean Marty allora vorrei che tu dicessi semplicemente che cosa è accaduto qual è stato il rapporto che hai avuto con il cinema fino a con quale con quale cinema perché leggendo questi libri si direbbe che sia soprattutto cinema degli anni 50 e poi come mai se è vero come mai si è un pochino attenuato se è vero se è vero naturalmente allora ho già detto diverse volte a Giorgio alcune cose e lo ripeterò mi scuserà ho avuto effettivamente ho frequentato tanto le sale cinematografiche quando ero giovane ci passavo tantissimo tempo era prima che io iniziassi a scrivere romanzi e ho proprio avuto questa sensazione che potevo davvero prendere prendere la tecnica la retorica del cinema e potevo mutuare cose che potevo poi utilizzare io che potevo sfruttare che potevo esportare e quindi utilizzare nella mia scrittura quindi elementi tecnici e proprio cose che appartengono assolutamente al cinema per esempio l'inquadratura il campo il controcampo il montaggio anche la colonna sonora la musica tutte queste cose si potevo cercare di immaginare la musica del libro certo era un po' idealista la cosa comunque ma cose molto tecniche non so l'illuminazione i vari oggetti il modo ecco adesso quando ci penso agli oggetti per esempio sto pensando ad un film di Hitchcock di cui non ricordo in questo momento il titolo c'è questo bicchiere non so se tu te ne ricordi c'è un bicchiere di latte che era stato illuminato dall'interno è veramente una cosa un bicchiere di latte sì che è una cosa veramente incredibile io non ho mai avuto voglia di fare film pur qua perché questo presuppone il fatto di lavorare con della gente cosa assolutamente insopportabile per me ma l'idea di andare a prendere dalla fabbrica del cinema della tecnica del cinema alcune cose e di portarla da me di deviarla verso la scrittura ebbene questo sì mi interessava davvero ma non so adesso forse sembra un po' meno adesso meno presente così ti sembra? no 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 ci sono ancora c'è ancora molto cinema nei tuoi romanzi però ci sono anche personaggi che sono degli attori vero? sì sì mi è successo mi è successo di prendere attori veri e e di introdurli nei miei romanzi mi è successo ma forse se appare meno e forse perché frequento meno il cinema oppure oppure non so o forse sto diluendo sto anacquando un po' di più queste tecniche non so e forse c'è anche questa idea questa preoccupazione di non voler ripetere sempre gli stessi procedimenti anche questa estrema libertà che si ha quando si scrive un primo libro ebbene non c'è più non ci sarà più mai più e quello che dicevamo questa mattina anche scrivere un primo libro è come camminare nell'ignoto verso l'ignoto non c'è nessun vincolo e ma appena c'è qualcosa dietro di te sai già che cosa non devi fare non devi ripetere non devi appunto abusare non devi ripetere quanto hai già fatto o le tecniche già utilizzate e devi cercare di inventarne altre e questo presuppone un po' meno libertà ma d'altra parte ti dà altri gradi di libertà che devi andare a cercare capisco c'è un'esigenza di non sta di fatto appunto che delle immagini delle immagini che io ho sempre trovato irresistibili dove il cinema diventa come una specie di campo metaforico come questa ad esempio di Lack dove tu descrivi un quadro dove ci sono delle carte da gioco e dici sette e huit neuf e dix di cœur gracieusement déployé de part e d'autre du valet come des sirenes autour d'Ester Williams sì sì ricordo sì vero ma sì sì bisogna già che il lettore conosca Ester Williams e poi ci si parla anche di questi tavolini con George Sanders beh sì mi piace tanto George Sanders nel 2006 nel 2006 c'è una grande c'è una grande svolta dopo questi dopo questi romanzi che in qualche modo anche Jean Monvée in fondo giocavano con il romanzo d'avventure polare eccetera quel che abbiamo detto c'è una grande svolta e con Ravel e poi le due vite che seguono cioè Curire Correre e Deséclair si apre un periodo completamente diverso in cui in qualche modo Eschnose si mette se posso dire come sotto libertà vigilata nel senso che la la libertà oceanica la libertà romanzesca in fondo è fortemente limitata dal fatto che si tratta di personaggi storici e quindi lo scrittore deve fare i conti tra la propria libertà romanzesca e il peso della documentazione ecco la cosa che mi ha sempre molto colpito è come è stato costruito come è stato costruito proprio dal punto di vista non parlo della lingua parlo dell'architettura cioè ad un certo punto Eschnose ha deciso di scegliere dieci anni della vita di 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 Ravel dal 27 fino alla sua morte invece nel caso di correre abbiamo sostanzialmente tutta la vita inclusa la sua il suo declino dopo i giochi di Helsinki allora come sono state queste vite come sono state costruite dal punto di vista del come hai deciso di di scegliere soltanto dieci anni quei dieci anni cioè com'è nata l'architettura di queste di queste vite per quanto riguarda Ravel ci è voluto moltissimo tempo una volta che allora all'inizio mi sono detto che avevo voglia di scrivere di Ravel e lì veramente credo di aver letto tutto ciò che si possa trovare su Ravel salvo un libro che era troppo tecnico di musicologia per me era troppo dotto però prima è stato necessario raccogliere tutto quello che trovavo sul conto di Ravel tanto sul versante della sua opera che della sua biografia e lì so di aver trascorso molto tempo il libro più difficile peraltro è stato il libro più difficile di tutti i miei Ravel ho passato molto tempo a cercare di capire come inquadrare il personaggio cioè potevo fare tutta la sua vita che è stata una vita al tempo stesso comune e appassionante come tutte le nostre povere vite però l'idea di fare una cosa che andasse a sistemarsi più sul versante biografia non mi calzava non mi andava perché volevo fare una cosa che fosse invece la più vicina possibile alla realtà del personaggio cioè versante biografico dunque però al tempo stesso che mi lasciasse la libertà di trattarlo a modo mio cioè versante romanzesco nessuna di queste due dimensioni doveva sopravvanzare l'altra bisognava trovare doveva fare un lavoro da equilibrista tra questi due diciamo filoni ed è per questo che raccontare la vita di Ravel è un'idea che ho abbandonato mi è parso cioè che il momento importante e mi sono reso conto aspetta ci torno dopo e il momento importante è il momento che va dal momento della sua massima gloria al suo declino il momento cioè in cui diventa un musicista conosciuto in tutto il mondo rispettato imitato allisciato da tutti diventa il grande compositore francese e non soltanto francese il grande musicista del tempo a partire da quel periodo si annuncia una malattia degenerativa che fanno sì che il suo corpo e la sua mente si disfino e va verso una fine insomma grandezza e decadenza tanto per dire insomma per sommi capi ciò di cui mi sono reso conto dopo e poi ho fatto la storia di Zato per che incorrere e poi e poi del grande studioso Nicola Tesla in Lampi e dopo avere scritto questi tre libri tutti e tre ma parecchio tempo dopo un anno dopo due anni dopo mi sono reso conto che era la stessa storia splendore e caduta perché si è imposto questo schema non so dirlo non lo so e fedeltà assoluta a un'opera sì fedeltà in tutti e tre i casi fedeltà assoluta a un'opera e in più il fatto che tanto nel caso della composizione musicale come dell'atletica insomma sport agonistico o della scoperta scientifica questi personaggi la loro vita gli è stata rubata dalla loro opera una sorta direi di sono tre tipi di genio in tre ambiti diversi e volevo che fossero ambiti molto diversi tre tipi di genio e questo genio in un certo modo li ha distrutti tanto per insomma parlando in soldoni però me ne sono reso conto soltanto molto più tardi che si trattava dello stesso schema eh no la roba dell'inconscio un modello di questo progetto sì è stato un libro di Schwob vite immaginarie ma che non tratta la cosa nello stesso modo e tuttavia è un libro che rileggo spesso e poi un altro libro di un autore inglese il cui nome naturalmente in questo momento Aubrey vite brevi dopo queste vite c'è ancora una nuova una nuova svolta perché in fondo quattordici è una non è una vera vita come le precedenti è una vita minuscola per usare appunto un'espressione che in realtà è di Pierre Michaud gli chiediamo scusa ed è però un romanzo ancora diverso prima del ritorno con On Voyage Speciale e la Videogérat Filmart di nuovo alla finzione pura no? e io vorrei chiedere visto che abbiamo già molto parlato appunto della sua ufficina della sua tecnica volevo che nel caso di quattordici se vi fa piacere ci ci leggesse uno dei passi che io trovo più più belli del romanzo ecco che è questo e magari lo leggo dopo in traduzione così voi non dovete fare e e Dès le lendemain... Ah d'accord. Bon ben allons-y. Et dès le lendemain matin, ça n'a plus eu de cesse encore dans le perpétuel tonnerre polyphonique sous le grand froid confirmé. Canon tonant en basse continue, obus fusant et percutant de tout calibre, balles qui sifflent, claquent, soupirent ou miaulent selon leur trajectoire, mitrailleuses, grenades et lance-flammes, la menace est partout. D'en haut, sous les avions et les tirs d'obugiers, d'en face, avec l'artillerie adverse, et même d'en bas, quand, croyant profiter d'un moment d'accalmie au fond de la tranchée où l'on tente de dormir, on entend l'ennemi piocher sourdement au-dessous de cette tranchée même, au-dessous de soi-même, creusant des tunnels où il va disposer des mines afin de l'anéantir et soi-même avec. On s'accroche à son fusil, à son couteau, dont le métal oxydé, terni, bruni par les gaz, ne lui plus qu'à peine sous l'éclat gelé des fusées éclairantes, dans l'air empesté par les chevaux décomposés, la putrefaction des hommes tombés, puis, du côté de ceux qui tiennent encore à peu près droit dans la boue, l'odeur de leur pisse et de leur merde et de leur sueur, de leur crasse et de leur vomi, sans parler de cet effluve envahissant, de rance, de moisie, de vieux, alors qu'on est en principe à l'air libre sur le front. Mais non, cela sent le renfermer jusque sur sa personne et en elle-même, à l'intérieur de soi, derrière les réseaux de barbelés, crochets de cadavres pourrissants et des articulés qui servent parfois aux sapeurs à fixer les fils du téléphone. Cela n'étant pas une tâche facile, les sapeurs transpirent de fatigue et de peur, ôtent leur capote pour travailler plus aisément, la suspendent à un bras qui, saillant du sol retourné, leur tient lieu de porte-manteau. Merci. E come avete visto questo passo, secondo me uno dei più significativi, tutta la guerra, trattare la prima guerra mondiale richiede un'enorme audacia e direi che in questo caso il segreto è non essersi mai distaccati dall'altezza alla quale il personaggio, il protagonista che si chiama Antim la può osservare. Cioè nulla, nulla è chiaro nella guerra di Antim, tutto gli è sconosciuto, ignoto, incomprensibile e anche noi la vediamo alla sua alla sua altezza. E visto che insomma siamo a casa di Babel e quindi si parla anche di traduzione ve lo leggo e l'indomani mattina di nuovo non c'è più stato un attimo di pace nel perpetuo tuono polifonico e nell'intenso ormai stabile freddo. Il cannone che tuona come basso continuo granate a tempo e a percussione d'ogni calibro pallottole che fischiano schioccano sospirano miagolano a seconda della traiettoria mitragliatrici bombe a mano e lanciafiamme la minaccia ovunque dall'alto sotto gli aerei e il tiro degli obici di fronte con l'artiglieria nemica e persino dal basso quando convinto di approfittare di un istante di tregua in fondo alla trincea dove tenti di dormire senti il nemico picconare di nascosto al di sotto della trincea stessa al di sotto di te stesso e scavare tunnel dove disporramine destinate a distruggerla con te dentro ti aggrappi al fucile al coltello il cui metallo ossidato reso opaco scurito dai gas brilla appena sotto il chiarore gelido dei razzi illuminanti nell'aria impestata dai cavalli decomposti dalla putrefazione degli uomini uccisi poi passando a quelli che ancora si reggono a stento nel fango dall'odore di pisce e di merda e di sudore di lerciume e di vomito per non pagare del dilagante fluvio di rancido di muffa di vecchio mentre in fondo sei all'aria aperta al fronte e invece no l'odore di stantio te lo senti addosso e dentro all'interno di te dietro i reticolati di filo spinato dove sono uncinati cadaveri marcescenti e disarticolati che talori ingegneri usano per fissare i fili del telefono compito tutt'altro che facile sicché i genieri sudano di fatica e di paura si tolgono il pastrano per lavorare con più agio lo appendono a un braccio che sporgendo dal suolo scavato funge da pendiabito e se ci sono credo che abbiamo un po' di tempo per le domande se ce ne sono grazie a lei scrittore mi piacerebbe chiedere se c'è un altro personaggio in questo momento che potrebbe andare a far parte di questa trilogia che lei ha scritto che diventerebbe una quadrilogia insieme ai vari Zato, Peck, Ravel e Nikola Tesla e poi un'altra domanda è a lei scrittore francese degli ultimi 40 anni mi sembra che negli ultimi almeno 15-20 anni dal mio punto di vista molta della produzione internazionale letteraria migliore arrivi dalla Francia forse anche quella cinematografica però credo almeno quella letteraria è francese questa è una mia opinione però spero che sia anche la sua e volevo sapere se c'era una ragione e se la condivide questa cosa ma proprio no sono proprio sicuro di no no sono come dire capisco è veramente sono lusingato praticamente ma noi nell'insieme siamo veramente valiamo poco cattivissimi non so non so perché lo dica no no ma sfortunatamente forse perché sono un po' pigro e forse perché non leggo abbastanza la letteratura straniera e talvolta mi imbatto in cose che così che certo non posso citarvi nomi perché non me le ricordo ma io trovo che lei sia molto indulgente ma proprio molto ma perché lo dice perché trovo che sia così perché io sono partito dagli americani questi anni fa almeno sono diventato un lettore con gli americani con quello che si parlava di postmodernismo prima e in questo momento in questi dieci anni per me la produzione americana è molto bassa e quello di cui io trovo piacere a leggere è proveniente dalla francia e quella di amare di postmodernismo io la ringrazio che dire grazie sono un po' in imbarazzo devo dire la verità devo dire che ultimamente non ho letto la produzione americana devo dire lui aveva anche fatto un'altra domanda avrebbe un quarto personaggio per una tetralogia ah sì sì dicevo stamattina a Giorgio con cui parlavo il libro su Ravel è stato difficissimo da scrivere perché era la prima volta che scrivevo di un personaggio reale quindi mi ha posto un sacco di problemi e già vi ho tramortito con queste cose qui il secondo cominciavo a capire un po' come si fa a lavorare su un personaggio reale e al terzo libro mi sono reso conto che non che sia diventato facile ma perlomeno meno difficile e quando rischia di diventare facile è meglio fermarsi perché poi uno rischia di lasciarsi prendere in questa in un sistema diciamo procedurale a quel punto non va bene è meglio dedicarsi a cose più sconosciute avevo pensato ne parlavamo stamani di lavorare su un personaggio che è un uomo politico indiano della metà del nel XX secolo che in Europa non conosce nessuno ma che ha avuto un percorso di vita piuttosto singolare che mi interessava ma questo presupponeva di documentarsi un sacco in inglese io l'inglese proprio non lo spiccico e quindi questi due ingredienti hanno fatto sì che io abbia rinunciato e comunque qualche volta mi dico che bisognerebbe forse non sarebbe male e forse mi tornerà la voglia di lavorare su un personaggio reale ma bisognerebbe che mi trovassi degli altri ostacoli perché sia un po' eccitante e anche un po' deprimente e un po' angosciante come succede poi sempre piccola curiosità lei ha letto non in inglese se ho capito bene e le è piaciuto eventualmente l'opera di Derek Raymond Factory no non lo conosco proprio no Derek Raymond ha detto no e mi indica che cos'è perché mi interessa io le confesso che lei non l'ho letta me ne scuso ma è così e quindi mi sono basato su quello che lei ha detto però si tratta di un autore io stesso mi domando se non ne sia una specie di intellettuale del noir si dice che sia il fondatore del noir ingleso è una serie di cinque romanzi aveva scritto dunque un libro nel 69 poi non è andato bene e si è dedicato a questo genere o sottogenere del noir alla fine degli anni 80 credo ed è interessante perché allora l'uomo fa parte dell'aristocrazia se vogliamo è comunque molto ricco ma ha avuto una vita molto strana ha vissuto in Francia aveva delle vigne ha cambiato nome ha vissuto nei bassi fondi negli ambienti il mio francese è un po' zoppicante non trovo le parole ma insomma e quindi ha raccontato questo mondo qui però si vede che non è un mondo a cui appartiene è piuttosto un intellettuale a me piace molto però avevo anche l'idea di trarre un film da uno di questi romanzi e allora ero curiosa di sentire la sua opinione non è un noir normale e beh lo leggo poi glielo dico domanda per l'autore ma anche per il traduttore c'è una grandissima musicalità nei suoi testi e volevo sapere se lei pensi che possa essere un problema per la traduzione è stato un gran piacere ascoltarla leggere non avevo mai letto sentito leggere un suo testo e penso che ci siano dei passi che sono ancora più musicali ma in ogni caso penso che deve porre un problema molto notevole per il traduttore e per il signor Pinotti ho questa domanda qui la sua traduzione era magnifica davvero molto molto bella ho avuto l'impressione che lei abbia fatto un lavoro proprio sulla musicalità vorrei sapere come è andata come si è svolta la faccenda sì per quanto riguarda quello che lei chiama musicalità se ho ben compreso sì musicalità significa giocare sulla melodia le armonie gli armonici le dissonanze è una preoccupazione un po' costante per me piuttosto che musicalità direi che sono sempre attento al rumore che fa al rumore che fanno le frasi allo scorrere all'articolazione sì il rumore che fa molto semplice tutto qui tutto qui tutto qui ma per quanto riguarda sì per quanto riguarda questo l'aspetto della musicalità insomma o dei o dei rumori o del corpo sonoro sì per me nel senso che io nei libri nei romanzi di Eshnosa è una delle cose che percepisco di più anche se nella realtà appunto credo che Eshnosa abbia ragione nel senso che appunto l'idea di musicalità andrebbe andrebbe così analizzata nel senso che si tratta a volte di qualcosa di si tratta di movimento sintattico si tratta di cambiamenti di direzione cioè ci sono delle frasi per esempio spiazzanti quando tu arrivi al centro di una di una frase hai come un senso di vertigine prima di prima di proseguire quindi ci sono ci sono vari aspetti che hanno a che vedere con il corpo sonoro e la sintassi ovviamente quelli che hanno a che vedere con il corpo sonoro grazie sono più facilmente sono più facilmente restituibili sono più facilmente restituibili in traduzione ma come si diceva stamattina ciò che riguarda la sintassi per esempio pone qualche pone qualche problema problema in più nel senso che credo poi ci sono qui molti molti traduttori credo che ogni forma di di violazione della della norma diciamo della lingua standard non sia meccanicamente riproducibile da una da una lingua all'altra quindi devi trovare altre forme di di infrazione ecco legarmi a questa domanda che è stata fatta sulla musicalità perché effettivamente quando all'inizio del suo intervento ha parlato di Ravel appunto ha parlato di questo passaggio del concerto e sembra effettivamente tutto scorrere così bene ed è un lavoro straordinario e mi ha fatto subito pensare a questi primi due paragrafi citati che effettivamente hanno questa musicalità incredibile si sente si crede possiamo quasi credere che alcune parole sono state scelte non tanto per il loro senso ma perché vadano che accompagnino questa frase nel modo giusto e allora io mi chiedo sacrificare addirittura il senso per inserire una parola bella che gli darà un'altra cosa cioè ma non il senso stesso ma il senso iniziale della frase diciamo sì sì è vero è vero ci può essere uno scambio di questo tipo si sceglie una parola che risuonerà in modo più efficace e che metterà in discussione in qualche modo il significato della frase in cui è inserito allora bisognerà a un certo punto riorganizzare interamente il tutto per preservare per mantenere la direzione narrativa che è stata intrapresa quindi bisognerà rimodellare deve risuonare anche diversamente talvolta l'efficacia del suono e come dire può trasformare il senso può rafforzare anche o non sempre perché talvolta può anche indebolirla ma bisogna fare comunque in modo da garantire questo equilibrio tra l'articolazione cioè che cosa significa significa che ci deve che può effettivamente dare un cambiamento ma la cosa un po' divertente se vogliamo è che qualche volta dei piccoli cambiamenti può influenzare la narrazione si sceglie una parola piuttosto che un'altra questo presuppone che la frase dopo inizierà non nella direzione prevista se si era previsto qualcosa naturalmente c'è una sorta di interazione no? è un po' linguistica primaria che sto facendo sì c'è questa interazione questo suono il rumore è quello che si vuole dire per esempio in questo passaggio in questo passo che volevi che io leggessi io non l'avevo riletto quindi non me ne ricordavo effettivamente ci sono delle parole e mi sono ricordato che le avevo scelte queste parole le avevo scelte proprio in modo deliberato mi sembrava che rendessero meglio l'atmosfera che volevo effettivamente creare che volevo veicolare ecco basta grazie a voi bene bene grazie per queste domande ci siamo rifatti di tutte le domande che non ci sono state prima grazie grazie a Gianni Schnoss grazie a Giorgio Finotti sia a Gianni Schnoss che ad altri autori è dovuto in realtà un doppio ringraziamento perché venerdì sono stati cancellati praticamente tutti i voli di Air France e tutti hanno dovuto viaggiare in treno, sopportarsi ore e ore di viaggio Pajac ieri ha viaggiato per 12 ore in treno per venire qui e Gianni Schnoss ha dovuto fare 5 e mezza di treno e quindi doppio ringraziamento davvero avete avuto un assaggio del suo modo di raccontare di questo insieme di profondità e leggerezza che c'è nei libri avete ascoltato un pezzo un brano letto i suoi libri sono in vendita al bookstore appena qua fuori e c'è anche una firma copie quindi se volete acquistare i libri e farveli firmare da Gianni Schnoss che sarà fuori ad aspettare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti